se chiedete perché non potete alzare un dito innocente senza permesso la vostra mancanza della più semplice capacità di ragionamento li lascia perplessi bisogna sempre avere un permesso altrimenti come potrebbero le autorità mantenere l'ordine sociale in ogni caso questo vi fermerà non c'è altro modo in cui l'autorità possa mantenere l'ordine sociale la tragedia del vecchio mondo è che questo unico modo in cui l'autorità può mantenere un ordine sociale deve inevitabilmente distruggere l'ordine sociale e qualsiasi forma di autorità che cerchi di mantenerlo l'energia di un numero sempre crescente di burocrati è sempre stata sottratta all'energia produttiva nel vecchio mondo nell'europa moderna alcuni anni della vita di ogni giovane sono consumati nell'addestramento alla guerra ma una perdita molto più grande di energia produttiva si ha nel tentativo di controllare l'energia produttiva per tutta la vita tutti i lavoratori riversano un'enorme quantità di energia per produrre cibo vestiti riparo luce calore trasporti tutte le necessità e comfort in montagne di carta penne inchiostro francobolli schedari e dettari di splendidi edifici tutti da utilizzare da uomini del governo che non producono nulla gli uomini che ricoprono cariche pubbliche non usano la loro energia in modo produttivo non è questa la loro funzione la loro funzione è usare l'energia umana come forza per fermare gli usi dell'energia umana che la maggioranza non approva o almeno non difende gli uomini di governo devono prendere la ricchezza che consumano dalla ricchezza che gli uomini produttivi creano e le donne produttive certamente la domanda importante è quale quantità possono assumere in modo sicuro poiché usano la forza non hanno modo di conoscere la risposta a questa domanda possono sempre sopprimere con la forza l'obiezione di un individuo di una minoranza al pagamento delle tasse e naturalmente dovrebbero sopprimerla la loro funzione in quanto governo è quella di fermare con la forza qualsiasi azione che la maggioranza non approva o difende l'inevitabile disastro deriva dal fatto che quando gli uomini al governo cercano di controllare gli usi naturali dell'energia umana nella produzione nella distribuzione dei beni la quantità di ricchezza prodotta che prendono deve aumentare costantemente e la quantità di energia che sottraggono all'energia produttiva deve aumentare costantemente anch'essa l'unico modo per farmi fare mezz'ora di fila per comprare un rocchetto di filo o per farmi passare sei settimane per ottenere dei francobolli sulla carta quando voglio guidare un'auto è utilizzare l'energia di persone che altrimenti produrrebbero più filo e più auto mi sottometto al loro cosiddetto controllo perché date le circostanze sono disposta a farlo ma devono essere presenti sul posto di lavoro altrimenti non lo farei nessuno lo farebbe questi uomini sono uno spreco di energia in due modi per vivere devono consumare i beni che uomini e donne produttive creano inoltre poiché non producono nulla la loro stessa energia viene sottratta alla quantità di energia produttiva disponibile entrambi questi sprechi devono aumentare con il passare del tempo devono aumentare perché il fatto è che tutti gli uomini e le donne sono libere gli individui controllano l'energia umana pertanto il tentativo di controllare gli individui è costretto a entrare costantemente in contatto con ciascuno di essi nessuno può pianificare le azioni di nemmeno mille persone viventi separatamente chiunque tenti di controllare milioni di persone deve dividerle in classi e preparare un piano che si applichi a queste classi ma queste classi non esistono non esistono due persone uguali non ci sono due persone che si trovano nelle stesse condizioni non ci sono due persone che hanno le stesse capacità non ci sono due persone che hanno gli stessi desideri al di là delle necessità della vita pertanto coloro che cercano di imporre nella vita reale un'economia pianificata che è la loro teoria e beh si scontrano con l'infinita diversità degli esseri umani la moltitudine più servile di uomini che sia mai stata chiamata demos o lavoro o capitale o agricoltura o masse in realtà sono esseri umani non sono pecore naturalmente per la loro natura umana sfuggono in tutte le direzioni i regolamenti che si applicano a classi inesistenti è necessario aumentare il numero di uomini che controllano le loro azioni poi poiché anche i funzionari sono esseri umani è necessario che più uomini supervisionino i supervisori tuttavia gli individui continueranno ad agire individualmente nei modi da loro pianificati questi modi non rientrano nel piano dell'autorità quindi sono necessari ancora più uomini imperativamente necessari per fermare o supervisionare questi nuovi modi di agire e più uomini per supervisionare questi supervisori e più uomini per coordinare la complessità in costante aumento di tutta questa supervisione il tentativo di esercitare un controllo sugli individui che in realtà non esiste deve aumentare di volume non è colpa dei burocrati se la burocrazia aumenta la burocrazia per sua natura deve aumentare consideriamo le 12 fotografie della nostra ford quando le auto venivano costruite a mano e non ce n'erano due uguali qualcuno ordinava ragionevolmente che venissero scattate delle foto di un'auto per identificarla oggi un milione di auto si assomigliano esattamente quelle foto non hanno alcun valore la burocrazia ha bisogno di un altro ufficio per eliminare tutti gli ordini che gli uomini produttivi comportandosi in modo nuovo hanno reso obsoleti allora come identificare le autovetture un altro comitato che diventerà un ufficio necessario per decidere tali questioni questa tendenza allo spreco di energia è presente in tutte le organizzazioni di esseri umani si sviluppa in tutte le organizzazioni imprenditoriali più grande è l'azienda maggiore è la tendenza a sprecare energia umana ma un'organizzazione che non si mantiene con la forza della polizia ma che dipende per la sua esistenza dalle moltitudini di individui che serve incontra un controllo naturale a questo spreco se i suoi costi di energia umana sono troppo alti i suoi clienti la abbandonano gli uomini d'affari chiamano questo controllo legge dei rendimenti decrescenti esiste un limite naturale alla quantità di energia umana che il governo può sprecare l'energia umana su questa terra deve essere utilizzata in modo produttivo gli uomini non possono vivere se non usano le loro energie per creare le loro necessità da questa terra che non dà nulla agli esseri umani ma poiché gli uomini di governo usano la forza di polizia non hanno modo di sapere quale sia questo limite naturale recentemente in europa è stato il limite della volontà della maggioranza di sopportare la crescente povertà che deriva da un crescente spreco di energia umana nessuno può conoscere questo limite perché dipende dai pensieri e dai sentimenti di un gran numero di individui nessuno dei quali pensa o sente esattamente allo stesso modo e tutti questi pensieri ed emozioni cambiano continuamente nel tempo che scorre il limite effettivo della loro disponibilità potrebbe essere scoperto solo raggiungendolo e allora la scoperta fu troppo tardi tutto era finito per gli uomini di quel governo nella storia passata del vecchio mondo il limite dello spreco nel tentativo del governo di controllare l'energia produttiva è sempre stato non la volontà ma la capacità dei sudditi di sopportare la fame prima o poi lo spreco di energia umana è diventato troppo grande i sudditi volonterosi del governo non sono stati in grado né di sostenere i loro governanti né di difenderli nel vecchio mondo sempre in guerra questo fallimento finale dell'energia ha causato la fine sanguinosa di quel governo e di quella civiltà 5 la guerra la guerra è sempre stata la funzione principale del governo del vecchio mondo gli uomini che vivono nel vecchio mondo impiegano gran parte delle loro energie nell'uccidere gli uomini nel distruggere il cibo il riparo e tutte le altre necessità della vita umana gli americani quando vivevo in albania avevo un amico che era una delle persone più belle che abbia mai conosciuto era un italiano di origini inglesi sua madre i suoi antenati materni erano stati inglesi per molte generazioni lui aveva 14 anni e suo fratello 9 quando i loro genitori annegarono i ragazzi non avevano altri parenti stretti e da quel momento furono inseparabili frequentarono insieme le scuole le università ottennero dal re in persona il permesso speciale di fare il servizio militare insieme andarono insieme in argentina nel 1915 tornarono per unirsi al loro reggimento furono entrambi feriti a caporetto e abbandonati sul campo il mio amico raggiunse il fratello ma era troppo debole per fare qualcosa per lui e il fratello morì durante la terza notte le ferite del mio amico lo costringevano ancora a tornare negli ospedali a intervalli per settimane ho cercato di spiegargli l'atteggiamento americano nei confronti della guerra non riusciva a capirlo io stessa ero confusa perché come la maggior parte degli americani avevo dato per scontato che nessuno volesse la guerra il mio amico aveva ricevuto la migliore formazione europea italiana, tedesca e inglese era ampiamente e accuratamente informato era intelligente, di larghe vedute e desideroso di capire il mio paese così difficile l'indizio, disse, era nel nostro atteggiamento verso la guerra lo sconcertava rideva della superficiale convinzione europea che gli americani siano dei semplici cacciatori di dollari conosceva intimamente diversi americani non li trovava mercenari né codardi né deboli né esattamente antipatriotici il patriottismo americano è particolare, diceva gli americani non dicono mai la mia patria, la mia madre patria che atteggiamento peculiare nei confronti del proprio paese di chiamarlo zio Sam e notate, ha detto, il tono con cui dite zio Sam o gli Stati Uniti è affettuoso ha un suono di, come dire, di uguaglianza di tolleranza come se un giovane fiducioso stesse parlando di un buon vecchio zio non è questo il modo in cui un uomo parla del suo paese, della patria, della madre patria del genitore di cui è figlio e poi il curioso discorso americano sulla guerra non credeva che fosse del tutto ipocrita ma vorrei spiegare i fatti gli Stati Uniti sono stati creati da aggressioni militari non provocate attaccano gli indiani si prendono mezzo continente attaccano il Messico si prendono il Texas l'Arizona il Nuovo Messico e la California attaccano la Spagna si prendono Cuba attaccano i Filippini e si prendono le loro isole allora perché non tengono e sottomettono il Messico quando le truppe americane hanno preso città del Messico perché non attaccano il Canada mentre la madre patria è impegnata in Europa perché gli Stati Uniti invertono la storia e combattono per un impero più vecchio invece di contribuire a smembrarlo ora nel 1928 gli Stati Uniti sono la più forte potenza mondiale perché non hanno un addestramento militare obbligatorio hanno usato il potere militare per dettare legge a tutta l'Europa allora perché l'esercito non ha alcuna influenza sulla nostra politica estera perché i figli delle nostre classi superiori si dedicano agli affari o alle professioni e non all'esercito o alla marina perché gli americani non onorano i loro grandi generali al di sopra di uomini come Edison e Hoover perché se il generale Pershing è un americano gli americani fanno di un editore di provincia il presidente degli Stati Uniti una mattina il suo servitore portò un biglietto chiedendo di potermi vedere subito solo per un momento entrò emozionato scusandosi per aver chiamato a quell'ora ma non vedevo l'ora di dirtelo mi è venuto in mente in un lampo all'improvviso proprio ora è il materialismo come ha detto lei, signora gli americani odiano la guerra perché uccide gli uomini e distrugge le proprietà improvvisamente mi viene in mente cosa sono le vite e le proprietà cose materiali tutti gli uomini muoiono il tempo distrugge tutte le proprietà le vite e le proprietà non hanno valore il valore immortale è l'anima di una nazione e la guerra rigenera l'anima della nazione gli americani non riescono a vedere i valori spirituali ecco signora, sì, sì questa è la verità in fondo, alla base au fond i vostri connazionali sono puri materialisti vedete? solo il mondo materiale non riuscite a vedere cosa sia la guerra perché è spirituale aveva visto morire suo fratello a Caporetto e morì in Etiopia un uomo fine, coraggioso, onorevole che credeva con tutta la sua mente che l'individuo è una cellula nel corpo dello Stato che l'autorità controlla tutti gli esseri umani e che la sua vita non aveva altro valore che il servizio all'Italia immortale ecco, questa è la causa della guerra gli uomini che hanno questa credenza pagana fanno sempre la guerra devono fare la guerra a causa della natura dell'energia umana non sapendo che gli individui controllano se stessi non riconoscono e non accettano questa responsabilità cercano di far funzionare la loro energia su una base falsa non funzionerà su una base falsa e uno dei risultati del tentativo di farla funzionare è la guerra i popoli del vecchio mondo si sono fatti la guerra quasi ininterrottamente per 3.000 anni un anno su 15 è stato un intervallo senza guerra basta con le sciocchezze sul capitalismo che causa la guerra qualsiasi scolaro sa che gli spartani facevano la guerra gli uomini che vivono nel comunismo e sotto tutte le forme di governo hanno sempre fatto la guerra la storia è uno spettacolo di miliardi di esseri umani nudi e senza riparo su questo pianeta senza cibo, senza vestiti, senza ripari se non quelli che la loro mente può immaginare e le loro mani realizzare nessuno di loro potrebbe vivere se l'energia umana non attaccasse incessantemente questa terra indifferente e pericolosa nessuno potrebbe vivere senza l'aiuto dei suoi simili eppure essi usano sempre la loro energia per uccidere i loro simili e per distruggere il cibo e il riparo da cui dipende la vita umana è un suicidio la guerra non uccide solo gli individui ma attacca la radice stessa della sopravvivenza umana la guerra non distrugge solo i beni materiali da cui dipende la sopravvivenza umana la guerra è una negazione attiva e distruttiva dei fatti della vita umana dei fatti della libertà individuale e della fratellanza umana nessuno che si renda conto del fatto che tutti i valori morali e spirituali della vita umana sono nell'individuo può vedere un valore spirituale nella guerra la guerra nasce dall'ignoranza dell'individuo sulla propria natura dal fatto che gli attribuisce la responsabilità dei valori morali della propria vita a una fantasia a un dio pagano che immagina esista al di fuori di lui superiore a lui e che lo controlla un'Italia immortale una razza tedesca una nazione uno stato gli americani hanno combattuto molte guerre le hanno anche iniziate non hanno mai fatto una guerra non hanno mai fatto una guerra ogni guerra che gli americani hanno combattuto l'hanno combattuta per difendere l'individuo dalle aggressioni di uomini che non riconoscevano la libertà individuale si sente dire che ci sarà sempre la guerra perché gli uomini vogliono sempre la guerra è vero? la natura umana è anti-umana? difficile se così fosse la razza umana non sarebbe sopravvissuta per 6.000 anni certamente una maggioranza va sempre volentieri in guerra il pacifista ha ragione nel dire che la guerra sarebbe impossibile se nessuno la facesse sarebbero possibili massacri e la schiavitù ma non la guerra la guerra è un uso dell'energia umana e gli individui controllano l'energia umana ogni volta che un gran numero di uomini chiamati in azione o altro va in guerra è la prova che la maggioranza di loro è disposta a farlo certamente anche gli esseri umani sono combattenti per natura vivere è un lavoro duro soli i buoni combattenti possono farlo che piaccia o no questo pianeta non è un luogo sicuro per nessuna creatura vivente vivere è lottare per la vita e quando qualcuno non lo sa qualcun altro sta combattendo per lui chiunque dica che la sicurezza economica è un diritto umano è stato troppo coccolato mentre lui blatera altri uomini rischiano e perdono la vita per proteggerlo combattono contro il mare contro la terra contro le malattie gli insetti le intemperie e lo spazio e il tempo per lui mentre lui blatera che tutti gli uomini hanno diritto alla sicurezza e che qualche dio pagano la società lo stato il governo il comune deve dargliela lasciate che i combattenti smettano di lottare contro questa terra disumana per un'ora e imparerà quanta sicurezza c'è lasciatelo andare in prima linea lasciategli portare un lento carico attraverso una tempesta di neve sulle montagne rocciose lasciategli guidare un rivetto per tenere il tetto del suo appartamento sopra la sua testa che tenga accesa la luce la sua luce elettrica che in una tranquilla e accogliente sera d'inverno quando la nebbia si congera sui fili lasciategli produrre dal seme alla tavola una sola fetta di pane e non sentiremo più parlare del diritto umano alla sicurezza la sicurezza di un uomo o di una donna non è più grande della sua autosufficienza se ogni uomo e ogni donna degni di essere vissuti non affrontassero il mestiere di vivere non accettassero il rischio il pericolo e la fatica oltre l'esaurimento e non continuassero a lottare per una sottile speranza di vittoria nella certezza della morte oggi non ci sarebbe un essere umano vivo ma combattere non significa combattere i propri simili se tutti gli uomini non fossero fratelli e se la maggior parte degli uomini non riconoscesse la fratellanza del genere umano non esisterebbe alcun essere umano essendo combattenti per natura i ragazzi trovano o inventano motivi per combattere qualcuno di solito un altro ragazzo sono ancora così quasi bambini che non hanno imparato a controllarsi e come i bambini sono ancora protetti dai loro veri nemici il tredicenne Auguste Chuteau che prese il comando di 26 barcaioli e la responsabilità di portare una fortuna in merci commerciali su barche piatte da Ford e Chartres su per il pericoloso Mississippi contro la piena primaverile dei ghiacci che si rompevano e sbarcò le merci sane e salve e iniziò a costruire la stazione commerciale di St. Louis in una zona selvaggia non sprecò il suo tempo e le sue energie per combattere un altro ragazzo anche gli uomini la cui mente e le cui circostanze sono infantili si combattono tra loro le risse nascono dal naturale spirito combattivo degli uomini dalla mente infantile quando sono protetti dai loro nemici naturali in caso di incendio inondazione terremoto pestilenza questi stessi uomini combatteranno come alleati contro il loro nemico comune e pochi uomini combattendo tra loro non fanno una guerra 100 500 10.000 uomini che si combattono fanno al massimo una rivolta solo un governo può fare la guerra la causa della guerra è l'illusione che il governo sia un'autorità che controlla gli individui naturalmente chi controlla un'azione è responsabile dei suoi risultati se il governo controllasse gli individui allora gli uomini al governo sarebbero responsabili del cibo del riparo dei vestiti della salute dell'istruzione del credo religioso dei matrimoni dei loro sudditi in breve di tutta la loro vita i governanti del vecchio mondo così come i loro sudditi hanno sempre avuto questa credenza pagana l'illusione di Hitler non è una novità tutti i re gli imperatori gli zar gli aristocratici le classi superiori hanno sempre creduto di controllare e di essere responsabili della maggioranza che considerano inferiore ma l'energia umana come ogni altra energia funziona solo sotto il suo controllo naturale come ogni energia si può impedire che funzioni in un determinato caso ma nulla può controllarla se non il suo naturale controllo individuale finché gli esseri umani vivono l'energia umana non può essere fermata quando la pressione esercitata per fermarla è troppo grande esplode in modo distruttivo in guerra esaminate qualsiasi guerra della storia scoprirete che la sua causa è il tentativo degli uomini di governo di usare la funzione propria del governo la forza come controllo dell'energia umana non molto tempo fa gli europei credevano che la funzione propria del governo fosse quella di controllare le credenze religiose dei propri sudditi se il re controllava o poteva controllare la fede di qualsiasi altro uomo certamente era responsabile di fronte a Dio e ai suoi sudditi per ogni anima del suo regno e avrebbe servito Dio il fatto del bene ai conquistati estendendo il suo regno in parte da questa causa sono nate le guerre chiamate guerre di religione perché oggi non ci sono guerre di religione perché oggi la maggior parte degli uomini sa che la forza non può controllare le credenze di nessuno oggi si dice che un conflitto di ideologie economiche provoca la guerra in Russia Italia Germania Giappone gli uomini di governo hanno torturato e massacrato moltitudini di persone con idee diverse dalle loro questi paesi ora si fanno la guerra e qual è l'elemento che accomuna il comunismo moderno il fascismo il nazionalsocialismo il bushido la convinzione fanatica che il governo sia un'autorità che controlla gli individui la maggior parte delle guerre nella storia deriva dal tentativo del governo di imporre un controllo immaginario sugli usi produttivi dell'energia umana l'economia pianificata ostacola limita e riduce la produzione ma l'energia umana deve essere produttiva per mantenere in vita le persone quando la forza l'ostacola le persone soffrono la privazione e la fame per ribellarsi a questa miseria si ribella al governante che ritiene responsabile la storia è piena di guerre di ribellione dietro i leader ribelli ci sono uomini affamati la loro ribellione rompe il meccanismo del tentativo di controllo per un po' riescono a migliorare le loro condizioni di vita e per questo ringraziano il nuovo governante o la nuova forma di governo ma nel vecchio mondo credono sempre che l'autorità li controlli così tutte le ribellioni non hanno mai migliorato di molto le miserevoli condizioni di vita che derivano dal tentativo di far funzionare l'energia umana partendo dal falso presupposto che gli individui non la controllino nella breve storia di questi Stati Uniti c'è un esempio del legame tra questa falsa credenza e la guerra la guerra più atroce più sanguinosa più costosa del secolo scorso è stata quella tra questi Stati la causa fu la cosiddetta tariffa protettiva del governo federale questa tariffa è una restrizione del commercio il suo scopo originario era quello di proteggere le industrie nascenti del paese gli americani comuni l'hanno combattuta fino al 1896 dieci anni fa gli agricoltori americani hanno iniziato a prelevare denaro da tutti i contribuenti americani in pagamento per ridurre le scorte alimentari del paese sostenendo che questo pagamento è la tariffa protettiva degli agricoltori fin dall'inizio questa tariffa di protezione ha funzionato come tutti i tentativi di controllare l'energia umana produttiva ha reso tutti più poveri ma i proprietari delle industrie nascenti ancora di mentalità pagana che consideravano la ricchezza come una quantità statica e il governo come un'autorità pensavano che questa restrizione del commercio li facesse prosperare come potrebbero prosperare ragionavano se non sottraendo la prosperità a qualcun altro se l'universo è statico la ricchezza non aumenta un uomo può ottenere un dollaro solo sottraendolo a un altro uomo l'idea che i prezzi possano scendere mentre i salari e i profitti aumentano naturalmente non è mai entrata nelle loro teste perché in tutta la storia questo non si è mai verificato la gentile protezione del governo sottraeva denaro alla maggior parte degli americani per darlo ai proprietari delle fabbriche rendendo così i loro clienti più poveri e riducendo il mercato dei prodotti industriali che ci crediate o no questo è ciò che i proprietari delle fabbriche volevano e l'hanno ottenuto e mantenuto comprando Daniel Webster e una serie di membri del congresso più economici sia del nord che del sud i comuni e stupidi americani hanno combattuto quella tariffa per cento anni perché era contro rivoluzionaria e perché era un uso della forza per togliere soldi alla maggior parte dei cittadini e darli a pochi gli americani del sud l'hanno combattuta politicamente fino al 1960 per le stesse ragioni e anche perché vendevano il cotone sul mercato mondiale e volevano acquistare manufatti a prezzi mondiali rivendicarono il diritto di annullare la tariffa nei loro porti aprirono i loro porti ma il governo federale minacciò guerra e li fece chiudere le elezioni del 1960 decisero che questa tariffa sarebbe stata aumentata ancora di più i suddisti rivendicarono quindi il diritto di abbandonare l'unione che tutti gli stati avevano mantenuto fino ad allora e lo fecero formarono un governo e quando le truppe federali non si ritirarono dai loro stati attaccarono le truppe federali fu la guerra più brutale che gli uomini civilizzati abbiano mai combattuto in quella guerra gli americani fecero rivivere una barbarie che non era più stata praticata dai tempi di Gengis Khan ma che oggi è il metodo di Hitler atrocità a sangue freddo commesse su civili disarmati donne e bambini da parte di truppe regolari che agiscono secondo gli ordini i nordisti hanno combattuto per salvare la rivoluzione americana salvando l'unione i suddisti hanno combattuto per salvare la rivoluzione difendendo i diritti degli stati durante la guerra le truppe europee si spostarono in Messico dimostrando così che i nordisti avevano ragione lo spostamento dell'equilibrio costituzionale dei poteri in questo governo da quando è finita la guerra potrebbe ancora dimostrare che i suddisti avevano ragione quella guerra è costata la vita a mezzo milione di americani è costata la perdita di energia di una generazione al nord e di mezzo secolo al sud la guerra e i suoi effetti sono stati causati da una piccola intrusione dell'antica economia pianificata da un piccolo uso della forza come tentativo di controllo e da un'effettiva restrizione degli usi produttivi dell'energia umana la forma del governo non fa differenza che a governare sia una maggioranza come nella democrazia greca o un re o un dittatore e i membri eletti del Parlamento o i membri eletti del Parlamento se gli uomini al governo usano la forza del governo nel tentativo di controllare l'energia umana il risultato è la guerra poiché si ritiene che il sovrano controlli i suoi sudditi si pensa che sia lui a fare la guerra ciò che accade in realtà come nel caso delle guerre di religione è che egli non può controllare i suoi sudditi il suo controllo immaginario non funziona quindi il governante e i suoi sudditi riconoscono che qualcosa ostacola il suo controllo è vero l'opposizione è nella natura dell'energia umana ma né il sovrano né i suoi sudditi rifiutano l'illusione di essere controllati da lui pensano che il suo controllo non funzioni bene perché non è abbastanza forte o perché non copre un'area sufficientemente ampia della terra e il sovrano chiunque esso sia aumenta quindi l'uso della forza con sforzi sempre più decisi e poiché i risultati sono sempre più disastrosi i suoi sudditi fanno una guerra di ribellione contro di lui oppure fanno una guerra per allargare le frontiere della sua autorità immaginaria una frontiera del vecchio mondo è una linea di baionetta che segna il limite geografico del tentativo di un governante di controllare gli individui l'uso effettivo della forza da parte del governo si ferma lì dove i cannoni e le guarnigioni di un altro governo fronteggiano il suo poiché l'economia pianificata dal governo ha sempre mantenuto la gente povera le condizioni di vita quasi statiche che hanno caratterizzato tutta la storia del vecchio mondo sembrano verificare la credenza pagana in un universo statico tutto il pensiero economico del vecchio mondo parte dal presupposto che la ricchezza non può essere aumentata ma deve essere divisa così il governante del vecchio mondo e i suoi sudditi presumono che per ottenere la prosperità debbano toglierla a qualcun altro non vedono alcun modo per aumentare il loro tenore di vita se non usando la forza per spostare le frontiere oltre le fattorie le miniere e le fabbriche già create senza dubbio molti tedeschi credono sinceramente che per vivere debbano allargare le frontiere tedesche e finché le frontiere saranno i limiti dell'uso della forza da parte di un governo nel tentativo di controllare l'energia umana questo sembrerà vero per vent'anni tutti i governi europei hanno affamato gli europei immaginate ogni confine di stato di questa repubblica fortificato presidiato sorvegliato da due file di soldati e poliziotti e da due file di burocrati tutti presi dalla popolazione produttiva di questo paese sostenuti dal resto della popolazione immaginate che nessun treno nessuna macchina nessuna persona oppacco possa attraversare la linea di confine di uno stato senza essere fermato molte volte e senza essere esaminato senza il permesso della polizia per lasciare uno stato e il permesso della polizia per entrare nell'altro immaginate che da uno stato si possano prendere o spedire solo 50 dollari da un altro 10 e da alcuni stati niente denaro cosicché nessuno al di fuori dello stato del Michigan possa comprare un'auto e immaginate che la valuta cambia ogni confine di stato e che i commercianti usino un tipo di denaro e i viaggiatori un altro e che in qualsiasi momento un decreto del governo possa cambiare il valore di uno dei due tipi immaginate che alcuni stati non ammettano le sigarette che alcuni escludano i vestiti pronti e che altri richiedano un deposito del valore totale di un'auto o di un camion per assicurarsi che non venga venduto all'interno dello stato deposito che verrà restituito quando l'auto lascerà lo stato nel punto in cui è entrata e provate a fare affari provate solo a vivere quando solo la Florida metterà il grano del Kansas e il Maine potrà esportare patate solo in cambio di carote del Texas e la porcellana di Syracuse potrà essere esportata solo nel Vermont e solo nella misura in cui i politici dello stato di New York permetteranno l'importazione dello zucchero d'acero del Vermont che gli apicoltori di New York osteggiano come un'invasione del loro mercato del miele continuate a immaginare non potete eguagliare la realtà europea questo è ciò che una fede nell'autorità ha fatto dell'insistenza americana durante e dopo la prima guerra mondiale sull'autodeterminazione dei popoli la reazione inevitabile a questo stato di cose è la guerra troppa energia viene sottratta all'energia produttiva troppa forza si oppone agli usi naturali delle energie degli uomini i popoli sono affamati e riusciranno a frenare i loro governi aboliranno questo uso della forza non è affatto così anzi incolpano i loro governanti si ribellano e cambiano i loro governanti è quello che hanno fatto in Italia in Grecia in Austria in Romania in Polonia in Germania in Spagna lo schema è vecchio come la vita umana i nuovi governanti usano sempre più forza più polizia più soldati cercando di imporre un controllo più efficiente cercando di far funzionare l'economia pianificata accumulando regolamenti su regolamenti decreti su decreti il popolo è affamato è sempre più affamato e come fa un uomo su questa terra a procurarsi il burro? il governo non dà il burro ma il governo non produce cibo da questa terra il governo è costituito da armi una distinzione comune a tutti i popoli civilizzati è quella di dare le armi al governo gli uomini al governo monopolizzano l'uso necessario della forza non usano le loro energie in modo produttivo non mungono le mucche per ottenere il burro devono usare le armi non hanno altro da usare si sente dire che le cause della guerra sono economiche si sente parlare di guerre di odio e di vendetta si sente dire che il nazionalismo causa le guerre e che solo uno stato mondiale e un'economia mondiale pianificata che è ciò per cui Hitler combatte possono portare la pace nel mondo un'altra pace romana e un altro medioevo c'è una frontiera tra il Missouri e il Kansas uomini di culture diversi ideologie antagoniste e antiche razze nemiche si sono incontrati su quella frontiera 80 anni fa gli abitanti del Missouri erano aristocratici tolleranti autoindulgenti proprietari di schiavi discendenti dei cavalieri cattolici la loro fede politica era radicata nella magna carta nel feudalesimo e nei diritti di classe feudale dell'uomo in Kansas arrivarono i protestanti duri stretti e fanatici del New England iconoclasti che odiavano l'aristocrazia il feudalesimo e le distinzioni di classe che si battevano per l'individualismo i diritti umani e l'abolizione della schiavitù dietro al Missouri c'era il Missouri francese che era stato francese per quasi 200 anni con l'inglese del New England c'era il tedesco l'olandese dall'orecchia sventola così recente dagli sforzi rivoluzionari stroncati in Germania che parlava solo la sua lingua madre si incontrarono su questa frontiera il tedesco e il francese cui antenati si erano combattuti sul Reno fin da prima che Cesare entrasse in Gallia se si parla di conflitto di culture c'è stato un conflitto di ideologie politiche c'è stato odio vendetta quando il proprietario feudale di schiavi incontrava il fanatico dagli occhi selvaggi che rubava i suoi schiavi e li tradiva alla fame e alle bande di assassini quando i tedeschi incontravano i francesi con i ricordi di mille anni di guerra tra loro il Missouri e il Kansas si sono uccisi a vicenda per sei anni prima che i cannoni parlassero a Fort Sumter e i due governi facessero la guerra Kansas e Missurians non si amano ancora molto ascoltate il boato della folla durante l'annuale partita di football turcai tra la Kansas U e la Missouri U non si sente questo suono durante le partite di football in nessun altro luogo il Kansas non ha dimenticato le incursioni al confine e il massacro di Lawrence il Missouri ricorda l'incendio di Independence e l'ordine numero 11 ora dopo 80 anni ma la linea del Missouri Kansas non è una frontiera del vecchio mondo nessuno la sorveglia nessuno vuole spostarla perché non è il confine di un controllo immaginario degli individui e di un uso effettivo della forza negli ultimi tempi si è diffusa la convinzione che il governo americano sia un'autorità si ferma l'auto su un confine di stato come se fosse una frontiera del vecchio mondo il cartello dice fermate tutte le auto qualcuno vi interroga un po' senza sapere bene perché si vede un altro cartello i camion del petrolio si fermano qui gli americani sono quasi convinti che il governo controlli l'energia che produce il petrolio dalla terra è una vecchia storia per gli abitanti del Missouri che ricordano che Luigi XIV immaginava di controllare la produzione del vino circa 1500 di queste affermazioni di un'autorità inesistente sono state inserite nei libri di legge di questi stati e quando il vecchio mondo ha attaccato questa repubblica e gli americani hanno dovuto combattere per le loro vite e per il riconoscimento della libertà umana su questa terra 15 centinaia di queste leggi itleriane si sono aggrovigliate intorno ai loro piedi nel loro stesso paese gli americani sono così spensieratamente ricchi che hanno lasciato che quelle leggi restassero in piedi finché ostacolavano la produzione e il commercio americani ma quando hanno ostacolato questa lotta per la vita e la libertà in otto giorni ogni stato le ha abolite questo è ciò che fanno gli americani quando vedono il loro nemico questa repubblica non è il vecchio mondo non c'è una linea di stato né un confine nazionale che sia una frontiera del vecchio mondo se i cittadini del Missouri credessero che il governo del Missouri li controlla e quindi deve provvedere a loro i politici di Jefferson City dovrebbero sorvegliare la linea di confine Missouri-Kansas con polizie e truppe e dotarla di burocrati che esaminano permessi e auto borse e spedizioni di merci non c'è altro modo in cui gli uomini di governo possano tentare di controllare gli individui allora i cittadini del Missouri avrebbero bisogno del grano dell'olio del sale e delle porte girevoli del Kansas la cui produzione è monopolio mondiale a independence nel Kansas proprio come ne hanno bisogno ora gli uomini del Kansas avrebbero bisogno delle mele del piombo dello zinco della bauxite del Missouri proprio come ne hanno bisogno ora agli uomini di ogni governo sembrerebbe necessario far arrivare queste cose nel proprio stato per alleviare la crescente povertà della popolazione il governo ha un solo mezzo la guerra sia il Missouri che il Kansas sono buoni combattenti combatterebbero quella guerra fino a un punto morto e la riprenderebbero ancora e ancora finché non sembrerebbe che l'unico modo per porvi fine sarebbe quello di schiacciare completamente quelli del Missouri o di distruggere ogni abitante del Kansas al di là di ogni possibilità di recupero questa soluzione potrebbe sembrare necessaria se non si sapesse che schiacciare completamente il nemico è sempre stato il metodo usato per porre fine alla guerra per 6.000 anni questo metodo apposto fine alla guerra non pone fine alla guerra perché la guerra non è causata dal nemico la guerra è causata dall'antica credenza pagana che l'autorità controlli gli individui e che debba controllarli questa convinzione è nelle menti individuali e nessuna forza può cambiare la mente di un uomo la guerra finirà quando la maggioranza degli uomini su questa terra saprà che ogni essere umano è libero ognuno deve rendersi conto da solo che ognuno è autocontrollato e responsabile finché un gruppo numeroso di persone ovunque su questa terra crederà all'antica superstizione che un'autorità sia responsabile del loro benessere si creerà un'immagine di tale autorità e cercherà di obbedirle e il risultato sarà la povertà e la guerra grazie a tutti Grazie a tutti